Aprirai gli occhi e festeggerai. Quattro, tre, due, uno. Questa è la storia di un ragazzo che si era perduto e a cui la box ha salvato la vita. I Gators non c'erano premi per i secondi. Ci allenammo come dei soldati. La nostra squadra poteva fare grandi cose e stavamo per riuscirci. Stabilimmo che tipo di sostanze dovesse prendere, quando e in quali quantità. L'obiettivo era l'utere i test. Più mi divertivo, meglio giocavo. Per un diciannovenne tenere centomila dollari in contanti sotto il letto era fantastico. Per internet ero il cattivo. Nel mondo della box questo piaceva. Infrangeva le regole e non lo accettava. La box fa parte del mondo dello spettacolo. La box è uno spettacolo. Dopo l'Eisman Trophy tutto è cambiato. Era raro vedere qualcuno giocare così e al tempo stesso condurre quello stile di vita. Sbronze da 5 milioni. Mi sentivo come una rock star. Pensavo è questa la vita di un atleta di successo. Il mondo è mio. Sarò il prossimo Muhammad Ali. A volte dai numeri. Ma una volta ottenuto tutto, mi sono sentito più vuoto che mai. Chi non usava steroidi era un perdente. Tutto è questione di vittoria o sconfitta. Di lode o vergogna. Vi sembra abbastanza? Non avete visto un c***o? Sarebbe stato incredibile.